Salve, mi chiamo Daniele Castelganeta e sono tetrabregico, il che vuol dire che sono realizzato dal collo in giù. Vivo questa situazione da circa quattro anni e ho deciso di fare questo video per intervenire su quanto è stato detto in questi giorni a proposito delle parolimpiadi. Anche io condivido in pieno il pensiero di parolimpiadi, in quanto ritengo che queste parolimpiadi non diano nulla di buono all'handicap, anzi sono servite solo e unicamente a sperperare e sprecare milioni di euro che potrebbero essere benissimo investiti in ricerca. Quando parlo di ricerca parlo dei ciechi, parlo dei miroresi, parlo di persone che sicuramente nei prossimi anni avranno la possibilità di tornare a essere soggetti attivi all'interno della nostra società. Invece con queste parolimpiadi si è voluto praticamente pontificare al massimo livello l'handicap, la disabilità e l'essere diverso. Io vorrei dire anche che quando si parla di handicap bisogna fare molta attenzione, perché ci sono persone come me che vivono purtroppo in un letto, alcuni sono anche collegati 24 ore su 24 a un respiratore, non hanno la possibilità neanche di espletare autonomamente le funzioni vitali. Quindi dobbiamo fare veramente molta molta attenzione quando parliamo di handicap, ho sentito di persone che dicono che addirittura non vi vorrebbero le proprie gambe indietro, ma ci rendiamo conto. Secondo me il handicap è una cosa da temere, ma veramente temere, è assurdo poterlo pontificare. Niente, che dire, concludo questo video con veramente tanto rammarico, perché c'è tanta gente che ha parlato di eroi, di super uomini, quando purtroppo nella maggior parte dei casi si tratta di persone che a seguito di sventure è stata trasportata all'interno di questo turbine dello sport, delle parolimpiadi, senza capire che diventava soltanto l'ingranaggio di un grossissimo meccanismo mediatico che tende a far soldi, a sfruttare la disabilità e la sofferenza altrui, quando invece si potrebbe veramente far tanto nel campo della ricerca. Vi saluto e vi invito a meditare sul quanto detto. Saranno apprezzati tutti quanti i vostri commenti. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.